buongiorno prendo la nuova 1,70 sono indeciso un giorno ho visto che ho disinfettante posso usare un po' grazie il bicchiare di Mascha e l'orso Mascha e l'orso Mascha e l'orso ma non sei mai Mascha non sei mai Mascha e l'orso grazie sa, arrivederci sono a posto lettura, ciao buongiorno prendo il gazzettino non si no, prendo un rosso ecco prendo il vaporetto ecco, ah ma sarebbe questa la famosa zona rossa ah ma io che credevo è stato un malinteso allora ecco, salute grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti